La fine del corteo funebre Prima che il feretro venga bruciato, questa edizione 98, attorniato dalle allegre vedove, amanti, amiche, intervenute numerose, un pubblico eccezionale, ma oggi era una immancabile, incancellabile assenza, Lallo. Lallo che era il promotore di queste iniziative, specialmente durante i carnevali, percorreva le vie di Servola con la sua banda sempre in testa, lo abbiamo incontrato per anni e anni e noi lo vogliamo ricordare in questi pochi minuti di filmato nell'atmosfera del carnevale, nelle sue ultime apparizioni. La fine del corteo funebre 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 che seguono il corteo fino alla fine. La comando ha fatto una fede a un prempa, che c'è? Oh, niente tico lento. Un ringraziamento, abbiamo perso un homo, che era il più grande uomo del servo per le maschere. E per questo oggi mi sono contento che sono qua, che ho festeggiato con lui questa roba, credo che anche lui sarà qua con noi. Non occorre che vi dico chi era, chi era l'hanno. Però non dovevamo dimenticarsi in tutti questi anni che abbiamo perso tanti altri, e anche... Ringraziamo anche il piccolo! Ringraziamo anche il piccolo! Ringraziamo anche il piccolo! Ringraziamo un merito! Grazie a tutti.